Grieco che ci ha raggiunti in studio, buongiorno, parleremo poi magari del metodo educativo di Eziolino Capuano, non so se corrisponde ai vostri, non credo. Non totalmente. Non totalmente, invece un progetto importante che è partito proprio dalla Toscana, che si è diffuso in tutta Italia, è la scuola senza zaino, che non è solo alleggerire le spalle dei ragazzi quando vanno a scuola, è proprio un metodo a tutto tondo, vero? Oggi vogliamo parlare proprio di questo, voi avete investito anche ieri Rossi nella sua conferenza stampa per presentare i 25 punti dei primi 100 giorni, ha inserito anche questo, ci puntate molto. Sì, è un'azione di sistema a volta a sostenere e a migliorare l'offerta formativa del nostro sistema scolastico. Non è un progetto, scuola senza zaino in realtà è proprio un modo innovativo di fare scuola, e in pratica è un gesto concreto perché i bambini vanno a scuola appunto senza il fardello dello zaino sulle spalle, ma è anche un gesto simbolico perché in realtà l'azione educativa si fonda sui tre valori fondamentali che stanno sotto questa metodologia, che sono la responsabilità perché il bambino diventa attore protagonista del suo processo di apprendimento, l'ospitalità perché è proprio un modo diverso di organizzare gli spazi anche dell'ambiente di apprendimento stesso, e la comunità perché le attività si fanno a piccoli gruppi, in isole e il docente diventa un facilitatore dell'apprendimento. Allora vediamo come funziona già con il servizio di Alessandra Parrini che è andata a Massarosa, vediamo. Veramente lo zaino non lo usate? Cioè tu lasci tutti i libri a scuola? Magari, purtroppo a volte è anche un po' pesante la cartella. Però a scuola fate delle cose diverse? Sì, è una cosa molto bella anche il fatto di aiutare quelli che hanno più difficoltà e quelli più bravi, insomma, aiutano quelli più difficoltà con schemi. Non è più come all'elementare che c'è l'insegnante che ti guida ma decidi un po' più te come lavorare. In questo sistema il metodo di studio si apprende più velocemente perché al centro dell'attenzione non c'è l'insegnante con le sue tante parole ma ci sono ragazzi con i libri, con il materiale, con la loro fantasia, con la loro creatività e quindi praticamente fanno il percorso della ricerca. Sin dai tre anni di età il metodo scuola senza zaino, nato in Toscana ed oggi diffuso in oltre 100, tra materne, elementari e medie come qui a Massarosa vicino a Via Reggio, insegna a collaborare con i compagni. E di fatti i bambini e i ragazzi hanno armadietti dove poter lasciare libri e quaderni. Il materiale scolastico, tradizionale e tecnologico è condiviso. I tavoli e le aree di lavoro, spesso sistemati con l'aiuto indispensabile dei genitori, sono disposti in modo diverso rispetto alle classi tradizionali. Maestri e professori che scelgono il metodo scuola senza zaino non stanno in cattedra ma guidano, aiutano, consigliano, seguendo un progetto ben strutturato e completo di apprendimento che limita libri e compiti a caso in classe. Da oltre 10 anni dunque la buona scuola esiste già ed attende risorse pubbliche adeguate. Dobbiamo impegnarci con i contributi genitori e con i fondi di bilancio che destiniamo in parte a queste attività. La ricaduta anche sulle altre classi è notevole e quindi è veramente un progetto su cui investire. Noi ci crediamo tanto e vorremmo anche essere un pochino supportati a livello ministeriale. L'assessore ricordava fuori onda che esiste anche un concorso per il logo di questa esperienza ma a parte l'innovazione che c'è su questa fascia d'età, per le scuole superiori un problema che vi siete posti è l'abbandono scolastico. Come pensate di ovviare? Questo è un problema grande per la nostra regione, per tutta l'Italia e devo dire che per le nostre politiche scolastiche sta davvero al centro. Quindi ci siamo dati un obiettivo ambizioso, passare dal 17,6% attuale al 14% a fine legislatura. Su cosa puntare? Sicuramente sull'orientamento perché deve essere un orientamento più mirato, un orientamento informativo ma anche formativo. Anche un modo per entrare meglio poi nel mondo del lavoro, ci vuole anche un passaggio diciamo più immediato che dia più speranza anche che studiare serva forse. Certo, è un raccordo più forte fra scuola e mondo del lavoro, in questo siamo aiutati anche dalla nuova legge sulla buona scuola che prevede l'alternanza in tutte le scuole secondarie di secondo grado e poi rafforzare proprio, daremo una mano anche noi come politica regionale, rafforzare gli istituti tecnici e professionali e anche le attività laboratoriali. Grazie Assessore, il nostro tempo purtroppo è molto contingentato.